vi piacciono i funghi? beh anche a me piacciono tantissimo sicuramente piacevano anche all'imperatore Claudio ma quella sera sua moglie è decise di aggiungere fra i funghi comestibili che mangiò quella sera Claudio qualche fungo venenoso l'obiettivo dichiarato era quello di liberarsi dell'imperatore permettere così al suo figlio di salire al potere il figlio di Agrippina era Nerone l'imperatore Claudio fu un imperatore che fece delle scelte oculate ma sbagliò spesso a scegliere le mogli la sua quarta moglie Agrippina lo avvelenò dopo aver fatto adottare suo figlio Nerone avuto da una precedente relazione malgrado i funghi avvelenati l'imperatore faceva fatica a morire per permettergli la sua dipartita l'imperatrice altuttamente d'accordo con il medico curante dell'imperatore somministrò dell'altro veleno per uccidere più velocemente l'imperatore Grazie per aver guardato il video